ciao a tutti bentrovati su questo mio canale in cui parliamo di orchidee io sono daniele oggi la necessità di fare questo video nasce dai vostri commenti e devo spiegarvi un po come funziona il discorso delle misurazioni delle ph e dei micro siemens prima di tutto vi presento questa orchidea botanica che è la violacea la violacea malaisia questa orchidea l'ho presa dal pipaista e appena è arrivata ho fatto uno short e l'ho messa subito in fibra di cocco la sera stessa che è arrivata l'ho messa in fibra di cocco perché aveva il composto in barche consumato e rovinato diciamo che da quando l'ho presa quindi passati dieci giorni sta bene sia come radici che come tutto come foglie la caratteristica della foglia piegata una caratteristica proprio della violacea essendo botanica più facile di gestione per il semplice motivo che questa è quella che esiste in natura non è stata incrociata con nulla questa è un'archidea che troviamo non viene da laboratori non viene da culture stressanti non è stata fatta fiorire per la vendita per il negozio diciamo che rispetto a quelle che compriamo dai vivaisti che sono vari ingroggi questa è la forma naturale la più semplice che c'è profumata quindi quando profumerà avrà un buon odore e produce un fiore in successione questa la fioritura l'ha già fatta quindi non ho la possibilità di farvi vedere il fiore stamattina l'esigenza del video nasce perché siamo circondati da concimi da dare le nostre o le falenopsis siamo circondati da quantità industriali di congibi tipologie diverse quindi quando noi prepariamo l'acqua abbiamo bisogno di questi due strumenti essenziali che sono uno il misuratore di ph e uno il misuratore di conducibilità elettrica ovvero sia di micro simence tante volte nei commenti nei gruppi mi chiedete come funzionano sono semplicissimi basta prenderli immergerli nell'acqua che noi prepariamo fino a una certa altezza e questi funzionano e misurano diciamo che il misuratore di ph indica il valore o agito o basico della sostanza del nutrimento che stiamo presentando che stiamo preparando quindi automaticamente il ph essenziale per l'assorbimento della pianta dei nutrimenti che prepariamo se non regoliamo il giusto ph la pianta non riceverà mai le sostanze che stiamo dando è importante perché a seconda se noi utilizziamo congimi per la fibra di cocco o utilizziamo vari altri se ne trovano tanti di congimi quindi diventa importante sapere quello che facciamo perché no se non noi convinti di fargli del bene perché questo dice che è un rigenerante questo rafforzante questo ricostituente alla fine buttiamo su l'ho fatto io per primo per questo che nasce l'esigenza di fare il video buttiamo su quantità di prodotti che non sappiamo nell'intervallo del ph che hanno né tanto meno quanta salinità danno faccio un esempio l'alga drone che questo qui ho utilizzato anche io in passato essendo a base di alghe ne dobbiamo dare di più quest'altro ne dobbiamo dare di meno perché più concentrato non è facile è vero che qui c'è scritto un grammo litro un cucchiaino so tre grammi quattro grammi ma non è quello il concetto dobbiamo assolutamente misurarlo io a parte quella categoria di persone ce ne sono due quelli che congimano ogni bagnatura o ci sono quelli che bagnano dopo tre volte che bagnano congimano io ho scelto di congimare ogni volta ma devo misurare i sali che metto nelle radici se no questione dei mesi le radici cominciano a diventare nere e seccarsi e quindi uno dice perché l'orchidea è morta semplice a lungo andare le dosi eccessive di congime di sali si vanno a depositare sulle radici le radici letteralmente le cuociamo le radici devono essere sempre verdi ma cominciano a diventare marroni scure tipo un colore legnoso e quello è l'indice che magari ci sono troppi sali se noi misuriamo l'acqua del rubinetto misura l'acqua del rubinetto di casa mia l'acqua mi dà un valore di 300 micro siemens quindi per come faccio io 300 micro siemens misurati con questo apparecchietto significa che non posso aggiungere congime perché già l'acqua del rubinetto tra il rame e cloro i vari altri elementi che ci sono nell'acqua dell'acquedotto sono già arrivato a cottura diciamo cioè non posso aggiungere nient'altro se prendiamo un'acqua demineralizzata che potrebbe essere in acqua da osmosi in acqua di quelle che si usano il bilferro da stiro che già danno come misurazione con questo strumento uno 0 27 un 0 28 un 0 30 anche l'acqua piovana l'ho misurata mi da un 0 30 li posso aggiungere 270 non grammi micro siemens di congime e quindi con quest'acqua di partenza che già bassa posso arrivare a un valore che la radice sopporta questo perché perché se noi buttiamo su esempio ci sono dei congimi tipo questo qua un grammo un grammo litro va benissimo sono congimi che vengono utilizzati questo addirittura l'ho preso dal vivaista quindi nulla da obiettare su quella tipologia di congime un grammo litro sull'acqua di rubinetto arriviamo a mille mille forse lo sopporta lavanda forse lo sopporta mille micro simenze forse lo sopporta il cimbitium come specie ma non tante altre specie diciamo che anche la phalaenopsis si difende bene cioè sopporta una buona congimazione però un grammo litro una base di partenza di acqua pressoché zero allora riusciamo a compensare un po ma se partiamo con acque dure addio il concetto partiamo da un altro presupposto questa pianta qui natura prende l'acqua che viene giù dal cielo acqua piovana e la congimazione che riceve quando l'acqua piovana dalla pianta scende fino alla radice quello che incontra lungo il percorso della pianta sono i sedimenti di qualunque cosa possa incontrare che possono essere escrementi animali morti qualunque cosa insetti qualunque cosa che si decompone lungo il tronco con l'acqua lei la riceve quindi diciamo che in natura ecco perché ho scelto di congimare ogni volta perché in natura loro si nutrono ogni giorno che piove ogni volta che piove loro prendono acqua il discorso delle tre bagnature poi congimare nasce con altri tipi di substrato non con la fibra di cocco diciamo che questi due strumenti sono indispensabili quello del ph lo possiamo abbandonare solo se troviamo come misurazione la possiamo lasciare solo se troviamo prodotti che già hanno un ph che si compone per esempio utilizzo questi due della fibra di cocco sono solo due cocco a cocco b messi nella nella soluzione nell'acqua prima uno mescolato poi l'altro mescolato mi viene fuori il ph automaticamente quindi con questi prodotti qua questo io non lo utilizzo più è un vantaggio della fibra di cocco che abbiamo detto che la fibra di cocco negli altri video deve essere una fibra di cocco bufferizzata cioè che è già un intervallo stabile di ph quindi la fibra di cocco lavora tra 5,8 6,2 come ph questi elementi combinati insieme mi danno esattamente 6 quindi il ph non ho più bisogno di misurarlo quindi una problematica di meno però se io vado mettendo dentro ai miei substrati qualunque tipo di questi prodotti sono buonissimi congim universale per piante verdi quest'altro il quale guano dei pipistrelli guano sono escrementi di pipistrello cioè abbiamo un mondo di cose che se noi cominciamo a dire o ci facciamo prendere dalla tenerezza il nostro cuore comincia a dire ora la pianta perché ci avrà bisogno l'ho fatto io buttiamo su tutto e solo questione di tempo la pianta se ne va ho scoperto con gli vari esperimenti prove che faccio che se la pianta la regolarizziamo un po come il nostro intestino non cambia nulla siamo tutti nell'universo connessi se regolarizziamo la sostanza il nutrimento e le quantità e le dosi la pianta sta bene non difficile farla farla morire quindi il video nasce da questa ecistenza di capire che questi strumenti che li troviamo anche nel negozio degli acquarii lo presi lì in costo irrisorio di 20 euro ma non è tanto per il costo è l'utilità io per esempio abbiamo detto quello del ph lo posso togliere abbandonare non ho problema senza questo non riesco più a lavorare cioè non so più quello che fare se non ci avessi questo quindi ho tutte le bile di ricambio tutti assolutamente se non c'è questo non saprei come preparare l'acqua perché lì basta una goccia in più una goccia in meno già stressiamo la radice ricordiamoci anche una cosa importante che questo è il segreto cioè noi dobbiamo ricostruire dentro questo vaso tutto l'apidate della pianta ecco perché nella descrizione dei miei video metto la radice sana poi produce una pianta sana noi guardiamo la pianta in realtà dobbiamo dobbiamo sempre guardare la radice quando c'è sulla foglia qualcosa che non va puntualmente se svasate c'è un problema le radici è difficile cioè la foglia è lo specchio non noi l'occhio lo specchio dell'anima nella pianta la foglia lo specchio della radice quindi se la radice è andata lo vediamo dai primi segni dei primi bucherelli che fai segni neri segni gialli non sono esperto nel riconoscere i vari segni delle foglie però so che ogni volta che c'è qualcosa sulla foglia c'è un problema le radici se non riusciamo a regolarizzare anche le bagnature perché quello che mettiamo dentro al vaso è la giusta umidità non acqua che scola però parlo con la fibra di cocco altri prodotti altri substrati hanno la necessità di far passare l'acqua sotto se non non si bagnano questo è il quarto video che faccio sulle falenopsis in ogni video ho cercato di mettere un discorso in particolare sulla bagnatura sulla fibra di cocco sul perché muoiono oggi l'esigenza di spiegare questi strumenti perché nei vari gruppi trovo sempre che uno non ci pensa che esistono questi prodotti e uno quando congima congima col cuore non è che lo fa per far dispetto alla pianta però siccome ci sono passato io per primo volevo condividere con voi questa chiamiamo lezione che ho imparato io e spero che possa essere utile anche a voi ci vediamo al prossimo video se c'è qualcosa che volete sapere scrivete se c'è qualche consiglio che mi volete dare certo volentieri e prossimo video parleremo di qualche altra cosa fatemi sapere nei vostri commenti grazie di avermi seguito buona giornata a tutti a presto